5 curiosità sul nudi branco Questi piccoli molluschi marini sono rinomati per la loro straordinaria varietà di colori vivaci che li trasformano in autentici capolavori del mare. Al contrario di altri molluschi, i nudi branchi non hanno conchiglie protettive. Si affidano ai loro vivaci colori e alle tossine derivanti dal cibo per proteggersi. La riproduzione dei nudi branchi è unica. Alcune specie sono ermafrodite, altre si dedicano a complesse danze di corteggiamento prima dell'accoppiamento. I nudi branchi sono voraci mangiatori che si cibano di spugne, anemoni di mare e altri organismi marini, assorbendo le loro tossine per autodifesa. Nonostante le loro dimensioni ridotte, svolgono un ruolo essenziale negli ecosistemi marini, regolando la popolazione di alcuni organismi e contribuendo alla biodiversità marina. Qual è stata la curiosità più sorprendente sui nudi branchi? Commenta e resta sintonizzato per altre scoperte marine.